Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della terminologia musicale. Soprattutto mi rivolgo a chi non studia musica ed è autodidatta, perché a volte si sbagliano i termini con cui si chiedono delle cose. Cantare in libertà Se noi chiediamo a un musicista di suonare piano, dobbiamo sapere che piano significa a basso volume, piano, non lento. Perché a volte sento dire, Sandy vai più piano, ma non è una macchina, cioè vai più piano non significa nulla in musica, piano significa il volume, cioè piano, pianissimo, fortissimo. No, e questo riguarda proprio l'intensità del suono. Mentre per dire di andare più velocemente o più lentamente, si dice appunto lento, più lento o più veloce. Ho anche un'altra cosa da aggiungere, basso, quando diciamo stai più basso, non significa il volume più basso, ma significa più grave. In musica, più basso, più alto, più basso, altissimo, bassissimo. Vabbè, abbiamo capito. Sugli spartiti musicali, ad esempio, noi troviamo le note che ci danno l'idea dell'altezza del suono, quindi se una nota è scritta più in basso sarà un suono più grave, man mano che si sale il suono sarà più acuto, e va bene. Poi ci sono delle indicazioni, tipo la doppia P, significa pianissimo, una P significa piano, MF, mezzo forte, F significa forte, 2F, fortissimo, esistono addirittura le 3P, per fare proprio pianissimo, 3F, fortissimissimo, significa, e quindi questo lo troviamo come indicazione. Per quanto riguarda invece il tempo, la lentezza, esistono tanti tempi che sono ad agio, lento, veloce, ma vi do un consiglio, c'è un'applicazione sul telefono, ve la faccio vedere. Questa applicazione, che è appunto un metronomo, ci dà delle indicazioni di tempo, adesso il tempo è sul 30, significa 30 batti ogni minuto, quindi sarà lentissimo questo tempo, e infatti sotto indica la parola grave, che significa proprio lentissimo, e sentiamo, vediamo, se mettiamo un play, che questo tempo è molto lento. andando avanti con la rotella, arrivato a 40, dice largo, che comunque è un tempo lento, andiamo ancora largamente, ad agio, lento, lentamente, e qua ci dà tutte le indicazioni di tempo, vedete, a 100 dice allegro, moderato, andando avanti, allegro molto, e così via, fino a un massimo di 250, 150, che ci dice prestissimo, che è un tempo velocissimo. Ecco qua, troveremo tutte le indicazioni di tempo. Quindi ragazzi, facciamo attenzione alla terminologia da utilizzare, quando facciamo musica, e possiamo dire, vai piano, se stiamo in macchina con un amico, ma non quando si suona. Ciao, se ti è piaciuto il video, ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso, e se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre, anche sulla pagina Facebook, Cantare in Libertà, e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie. Grazie.